salve a tutti qua da fabio oggi siamo in un video sbarbata questo video lo pubblico su facebook su facebook ne ho fitti per passione e sulla mia sul mio canale youtube la da tua fabi è la tua tradizionale fabio se ci cercavo il video di una tazza oggi di una tazza un caldo di lavoro un caldo assurdo oggi siamo riporato verde oggi siamo riporato verde quello di fresco proprio a manetta mamma mia pinte 5 e mezza in cui la casa fatta la dolce morto morto sbarbarmi per rilassarmi una bella bar sbarbata tanto pennello mocha soft da ragazzo ecco qua intanto che fa il tetto ci usiamo poi lo usiamo dai wickson metallo da un po' che non lo uso vediamo come si apre la farfalla ci usiamo le mie preferite le gillette anzi no non usiamo le gillette le sole la mette e usiamo il wickson ah ho finito i pacchi ho finito il wickson bene questo è l'ultimo perfetto se oggi quello è finito dai buona buttiamo poi montato dove l'ho messo facciamo una montata al buro eh aaaah 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 Grazie a tutti. 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 Barba. Grazie a tutti. la pezzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti.